Ehi tu che stai guardando questo video non fare proprio il no skin della situazione perchè lo so che vai nel negozio oggetti a scioppazzare come un matto infatti da oggi se ti apio supportarmi come creatore cliccando in basso a destra supporto un creatore hyper legit tutto minuscolo tutto minuscolo e uguale una volta inserito il mio codice clicca su accetta ed il gioco è fatto grazie mille a tutti quelli che lo faranno vi lascio al video buona visione benvenuti in questo video di fortnite l'ultima sfida fai centro in centro è disponibile tra pochissime ore ragazzi ma io già l'ho trovata e ora vi farò vedere pure il modo semplice e veloce da effettuare questa sfida per sbloccare gli ultimi due oggetti di ricompensa allora la sfida non è ancora disponibile ragazzi però però se andiamo su i nostri dorsi decorativi e andiamo su backboard piccolo trucchetto guardate qua uso uno spray su un camioncino camioncino del gelato durante la ltm fai centro in centro questa sfida sarà disponibile ragazzi praticamente tra tra due ore ok il video lo sto registrando in anteprima in modo tale che appena schiocco la mezzanotte e desce la sfida subito vi carico il video sul canale quindi ragazzi andiamo in team ci avviciniamo ad un camioncino del gelato faccio lo spray vi mostro il tutto dove trovare i camioncini dei gelati eccetera e concludiamo il video e concludiamo anche le sfide facendo in centro finalmente che le abbiamo finite tutte e sblocchiamo tutto ok eccoci qua in partita ragazzi andiamo a visitare il nostro piccolo camioncino del gelato e a farci uno spray sopra proprio davvero i baschettari con gli skateboard cattivi a fare i graffiti allora camioncino del gelato camioncino del gelato dovrebbe essere da sti pizzi rara mi ricordo di averlo visto da sti pizzi in camioncino del gelato andiamo qua a destra no qua no andiamo a destra qua e dagli corri eccolo la no quello è il camion street food rip un botto questo è un bus non ci interessa nulla là un altro camion street food quindi andiamo all'altra parte camion dei gelati eccolo qua boys quindi raga facciamo jump sopra troviamo uno spray da verlo colorarlo tutto spray gg ragazzi facciamo una maschera top facciamo pure un piccolo gg e stiamo a posto ragazzi quindi sfida completata ragazzi ovviamente ora a me non me la conta perché sto registrando in anteprima le sfide ovviamente tipo come quando trovate la strina nascosta tipo quando i ragazzi altri youtuber registrano il video della strina nascosta in anteprima quindi non la trovano però vi dicono il punto esatto ecco qua dove trovare il punto esatto del camion saltateci sopra fategli uno spray sopra e il video può concludersi qua ragazzi io vi ringrazio per aver visto il video come sempre mi auguro di esservi stato d'aiuto sfide per centro in centro completate entrambi gli ultimi due skateboard gli stili degli ultimi due skateboard completati e sbloccati io vi ringrazio ancora per aver visto il video vi saluto Bella Boys Ciao Ciao Ciao